Centro Affettatura Carni Durante la resistenza divenni partigiano. Da partigiano mi laureai in veterinaria. Da veterinario entrai in politica. Come brulla la politica e come brutta. Non c'è nessuno che ti aiuti, non c'è nulla. Durante i miei discorsi mi soffermavo su lunghe ipotesi di felicità sociale. E come risultato mi proposero di non presentarmi alle elezioni per cedere il posto a un altro candidato. Se avessi accettato mi avrebbero dato la presidenza del centro Affettatura Carni. Allora ho visitato tutti i miei elettori perché trasferissero le loro preferenze da me al compagno di partito. Nel mio elettorato c'è un po' di borghesia arricchita, molta fauna del grosso soldo, alcuni sottoprodotti intellettuali. È un elettorato che potevo travasare in un altro partito. Invece l'ho travasato nel compagno di partito ma ancora aspetto la presidenza del centro Affettatura Carni. Qualcuno ha detto che la paura di non avere nemmeno una presidenza mi tromba ogni reazione, ma vorrei vedere lui al posto mio. Commento. Ogni evento è un passaggio dell'equazione evolutiva dell'individuo che lo vive. Al di fuori di questo significato, l'evento non ha nessun valore oggettivo. Serve solo a produrre evoluzione in chi lo vive, che con le sue limitazioni crea e insieme percepisce ciò che lui chiama la sua vita. Grazie. Grazie a tutti.